Il percorso ufficiale del Giro d'Italia 2025 sarà svelato il prossimo 12 novembre a Roma, ma sembrerebbe essere certa che una delle tappe partirà da Giulianova. Per celebrare l'evento l'amministrazione comunale ha il lavoro per vestire a festa il comune con una settimana rosa, un evento di caratura internazionale che darà di certo una grande visibilità alla cittadina costiera. Sì, un evento importante. Vogliamo far sì che i nostri territori e la nostra città possano accogliere eventi di levatura nazionale e anche internazionale. Noi ci siamo candidati per una tappa del Giro d'Italia. Il 12 novembre verrà ufficializzata. La nostra idea è quella di coinvolgere la città, di abbellirla, di organizzare una vera e propria settimana rosa dedicata appunto al bike, dedicata ad accogliere il Giro d'Italia nel migliore di modi come tradizione dei nostri territori. Sembrerebbe che la data scelta per la partenza della tappa dal comune costiero sia quella del 17 maggio. Sì, quello è il periodo previsto. Per noi anche la data sarebbe perfetta perché sarebbe un sabato, con l'arrivo il venerdì. Sarà un Giro d'Italia che sicuramente coinvolgerà al meglio e promuoverà al meglio i nostri territori in un periodo che per noi è proprio ideale per la destagionalizzazione e per la promozione turistica. Il luogo esatto della partenza è ancora in fase di definizione. Tra le aree più probabili figurano la zona centrale della riviera con Piazza del Mare, il Porto e il lungomare sud del quartiere annunziata che dispone di ampi spazi. Sì, già abbiamo effettuato nei giorni scorsi dei sopralluoghi, sono appunto venuti gli organizzatori, abbiamo individuato delle aree che sicuramente promuovono la nostra città e soprattutto anche le attività commerciali, quindi coinvolgendo a pieno quello che è la zona centrale della città.